eccomi qua ragazzi bentornati di nuovo sul mio canale oggi vi mostro un effetto spettacolare ragazzi e per questo gioco avrò bisogno di uno di due di tre di quattro dei quattro assi ragazzi i quattro assi che noi andremo a prendere e mettere qui sul tavolo poi come ogni gioco di magia che si rispetti andremo a far selezionare una carta dallo spettatore mettiamo caso che lo spettatore si ferma sul 10 di fiori prenderemo il 10 di fiori ragazzi lo andremo a mettere in cima al mazzo e poi faremo un taglio e gireremo la carta scelta dallo spettatore così passeremo in avanti la carta dello spettatore e la metteremo insieme ai quattro assi ora amici miei fate attenzione perché faremo una procedura magica sotto i vostri occhi prenderò invisibilmente la carta scelta dallo spettatore la vedete non la vedete possibile eppure io la vedo prenderò questa carta e la lancerò all'interno del mazzo così beh ragazzi se la magia avesse funzionato non sarebbe qualcosa di incredibile se vado a prendere il mazzettino di carte mi basta fare un gesto magico e se andiamo a vedere qui abbiamo l'asso di quadri di fiori di cuori e incredibilmente ragazzi la carta scelta dallo spettatore magicamente scompare beh ragazzi vi ricordate che vi ho detto che prendevo invisibilmente la carta scelta dallo spettatore e la lanciavo all'interno del mazzo non ci crederete mai ma se andiamo a vedere la carta scelta dallo spettatore è l'unica tra tutte le altre girate di faccia come notate il 10 di fiori bello no ragazzi beh un effetto veramente incredibile ragazzi prima di concludere ci tenevo a salutare un canale fantastico un canale meraviglioso e questo canale si chiama in viaggio mi raccomando ragazzi fateci un salto perché è veramente fantastico anzi ne approfitto e ringrazio alcuni dei miei iscritti che sono già passati su questo canale canale in viaggio e poi ci tenevo a salutare un altro bellissimo canale magico pc beh ragazzi noi ci salutiamo qui e ci vedremo nel prossimo video ciao a tutti amici alla prossima ciao ciao ciao